A poche ore dalla comunicazione ufficiale da parte della ASL1, circa la ripresa del servizio di prenotazione al CUP della ASL1, tante le segnalazioni di utenti che ha ascoltato il nostro servizio sono venuti prontamente qui al CUP del San Salvatore per finalmente poter prenotare la visita o ritirare magari un referto. E qui la sorpresa perché purtroppo c'è da constatare un fatto, ovvero che nulla è ripreso, le persone arrivano qui e vengono prontamente rispedite a casa. Il servizio non funziona, gli operatori all'interno, siamo riusciti a parlarci ovviamente per ragioni aziendali, non possono rilasciare dichiarazioni, ma quello che ci hanno raccontato è la realtà dei fatti, ovvero che il servizio non funziona e che delle tante persone che hanno ascoltato i nostri servizi, quelli della stampa locale circa la ripresa di quel servizio, arrivati sul posto, sono stati rinviati, rimandati nuovamente a casa. Quindi oltre al danno anche la beffa di un servizio che ufficialmente è ripreso, sulla carta è ripreso, ma che in realtà nei fatti è tuttora sospeso.